Mentre Grillo lancia Gabanelli o Rodotà cercando un possibile accordo futuro con Bersani, mentre Berlusconi cerca di trovare l'accordo con Bersani prima che ce lo trovi Grillo, ci sono dei nomi tipo la Gabanelli che a me piace molto e Rodotà che a me piace molto, però come si sa si deve andare verso una persona, almeno dicono così, dalle elezioni domani, che dovrebbe essere eletta la prima mandata per far vedere che c'è tranquillità in Italia, c'è una persona che si faccia rispettare, una persona che sappia comandare, una persona che in un momento così metta tutti in riga, ci sarebbe però purtroppo è totorina, è incarcerato e quindi è uno dei non elegibili. Pensavo che parlavi di te stesso. Perché non si era adatta a fare il presidente. Come no? Pilu, un pilu per tutti, farei un pilu, ma quello che mi ha colpito è che gli americani, dopo il vile attentato, hanno dato la parola a J.M. Berger, un analista del Centro Internazionale per lo Studio del Radicalismo, che coinvolge cinque prestigiosi istituti e università tra i quali la Pensilvania e si occupa di attività terroristiche negli Stati Uniti e gli hanno dato gli elementi e ha detto no, non è un atto terroristico, sono esplose due bombole a pressione, non ci voleva bisogno, c'era, credo, bisogno di chiamare un esperto in questo modo. E su questo gli americani, quando fanno queste cazzate, gli americani mi preoccupano, la rassegna stramba va avanti con Belsani, che ha dichiarato che teme i franchi tiratori. e Renzi gli ha detto evitiamo rotture, e chiaramente Belsani ha detto ma il partito è unito, no, evitiamo rotture dei coglioni, perché sa che se continua con questo è, ragazzi, sia mica qui a aspettare ingessati che Berlusconi ci rompa un braccio, eh. Quindi dalla nazionale andiamo al locale, perché ad Arezzo, Ada da sé, Rezzo da sé, c'è questa notizia che Graverini, che è, credo, presidente dell'ordine degli avvocati, come l'era il suo povero babbo, dice che gli avvocati sono in calo perché molti appendono la toga al chiodo, perché non c'è lavoro. Cioè, pensate che in provincia di Arezzo c'è un avvocato ogni 300 abitanti. Poi la gente ha smesso di litigare perché sa che litigando costa un sacco di soldi con un altro, e poi io ricordo che quando ero sposato con la mia seconda moglie, nel nostro castello, vivevo in questo meraviglioso castello, c'era una mattonellina del 1840, mi sembra, che riportava questo, Signore, benedici sta casa da Liguai, che ne medico, ne avvocato, che metta il piemai. Quindi già la saggetta veneta, la saggezza veneta trasposta in Valtiberina, mi porta a chiudere con il calcio perché domenica sarò a quelli che il calcio, in diretta da Pian di Chena, dal ristorante Lo Strettoio, è un viola club con Pupo, ovviamente faremo questo collegamento su Rai 2. Vi aspettiamo e buona visione a tutti. Minuti?